Ok, un saluto da Francesco Samani e vediamo velocemente come risolvere problemi relativi alla ricerca dei video Andate su youtube.com, vi potete anche iscrivere, io adesso ho fatto l'accesso, basta avere un account gmail Io adesso ho fatto l'accesso con il mio account gmail, basta scrivere Francesco Samani e vi dovrebbe, cioè no vi dovrebbe Vi comparirà il, diciamo la pagina, il link, il canale, youtube lo chiama canale Qui potete subito vedere le novità, però potete cliccare direttamente sul canale Nel quale ho già inserito gli ultimi video caricati eccetera eccetera Andate sulla playlist e su concorso docenti 2020 vi spunteranno tutti, tolgo l'audio eh Vi spunteranno tutti i video concorso 2020 prova preselettiva, questo è sulla probabilità composta Questo è relativo sempre a, l'ho caricato due volte e lo elimino, da dove ci sto Quesito di logica svolto in diretta Calcolo della probabilità, prima parte Come accedere ai contenuti gratis Esercizi di logica Come preparare un'unità didattica di apprendimento Domande e risposte, queste sono le domande che mi avete dato le risposte Prova preselettiva che ovviamente non è per il concorso TFA E non è nemmeno per il concorso straordinario Ma è relativo al concorso ordinario Prova preselettiva Impostazione di un'attività didattica Questo è importante sia per il TFA che per tutti i tipi di concorso Come svolgere la prova scritta Ovviamente questo è relativo a tutti i tipi di concorso Introduzione di un'attività didattica E' importante per tutti i concorsi In particolare è importantissimo per il concorso TFA Dove ad esempio Ecco, per esempio Pedagogia speciale OMS E nasce dall'ICF Questo è Diciamo importante per tutti Ma in particolar modo per quelli che si stanno Preparando per il concorso TFA Come disabilità Relativi manuali diagnostici Quello che vi chiedo Inoltre Una volta che andate Cliccate su un video Basta che Cliccate sul link Fate copia E poi lo potete Incollare Questo link Incollare quindi Spargere la voce Ai vostri colleghi O nei gruppi Così mi date anche una mano Relativamente Date una mano a tutte quelle persone Che mi chiedono dove sono i video Dove si trovano E mi mandano l'email Non vi posso mandare A tutti L'email Con i link E né tantomeno Vi posso mandare i video Che sono Centinaia di giga Quindi Semplicemente Voi trovate tutte le risorse online E ho fatto una cartella Che si chiama Provo concorso Docenti 2020 Quindi Io penso che Tutte le I quei siti Penso che Non ce ne dovrebbero essere altri In ogni caso Se avete dei dubbi Scrivetemi Lasciate i commenti Io vi rispondo Sempre a tutti E vi ringrazio E vi auguro Una buona giornata Tanti saluti Da Francesco Samani E vi ringrazio